a a a a a a a a ma non ragazzi se c'è un'altra parte di questa notte di scuola ma sono un meccan oggi è un giorno allora che si fa inizio di mozza allora andiamo avanti e facciamo caserma dei pompieri benvenuto a caserma dei pompieri grazie perchè c'è uno zombie lassù sono sul lama laser ah no ma che sputa lo sputo sta bene aiutamente se ha tutti gli alarmi ok quello funziona puoi farcela maxwell questo funziona ok su non voglio testare subito questo questo non distruggerlo da nazionale banana elettrico perfetto torniamo su non so neanche per quanto non devi sputarci sopra perfetto prossimo tu rossa così forte non posso dormire tappo tappo sughero figatelo nell'orecchio no devi figatelo nell'orecchio tappo 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 di plastico va figati questo nell'orecchio si peste ha funzionato tutto che vuoi non trovo più il mio elmo si andrà da qualche parte boh, pensiamo ce l'ho qua salve che orazione? posso andare a casa? ufficio contento? si tu, che vuoi? questa bistecca deve essere realizzata più tenera più potente cosa rende le bistecca più tenere se non Jack Sparso non mi sto bravo via, sputa sul Jack no, sputa sul Jack sputa sul Jack sputa sul Jack basta quindi dove non funzionare non tompi allora proviamo con uuuu te te scherzando però mangia perchè non ho fatto cosa vuoi? perchè c'è un tazzo qui? apposta non c'è il tasso potenzialmente ok non vuole più niente perfetto ora torniamo giù e giù oh alleluia dunque tu che vuoi devo far ripartire un po' di questo cuore 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 luogo non vuoi organi nero perfetto no defibrillatore oh shock ho avancato shock non posso non va perchè non va non trovo la lama la lama torna qui si bello perfetto shock non 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 psico lobo psicologo se non funziona usa quello ok aiutami a ricostruire questo edificio banan banana 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 ehm edile epica ok muratore 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 minus tasca ottacabile non c'è qua mmm non c'è no martello pneumatico l'uomo assoluto io cosa crede prego brrrrrr brrrrrrrr brrrrrrrrrr brrrrrrrrrr l'uomo brrrrrr brrrrrrrr brrrrrr un'immagine un hamburger cheeseburger visto che non posso mangiarlo l'uomo 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 che succede no auto pompa auto pompa super sonico volante favoloso motu motu super sancu volante majestico magnifico magnético dei pompieri. Certo. Cosa c'è bene. Certo. Brum. Aia. Forse ho dovuto vedere. Non è tanto quello a giocato. Velo... Velco. VeloCS. Non so scrivere. Ce l'ho fatto. Brum brum. Quindi. Manca ancora uno. E io non so chi. Buttiamo questa roba. Ma chi? Ah quella. E se è questo? Mi solo rimetto. Proviamo. Tieni. Ha funzionato. Bella. Più o meno. Prendi il latte da qualcosa che fa buio. Mucca. Secchio. Oggetto vuoto. Ah. Che schifo. Ha funzionato. Butto il secchio. Ok. Crea la risposta alle nuove. Cos'è tutto nero e bianco? Ecco. Scacchi. Cacchie. Cos'è tutto nero e bianco? Banana. Scacchi. A chicchi. Banale. Ciechi. Va bene. Saluto. Potenza qui. Un picchiere mio. Interagisce. Sì. Vabbè. Signora. Vieni più vicino per la tua. Aiuto sopravvissuti a difendersi da un'invasione di zombi. La città si è diventata da un'invasione di zombi. Il mio sopravvissuto deve essere soccorso. Aiuto il dottore curato preferito. Una supposta. Sapota. 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 Ok. Cala. La gorilla. Certo. Una me... Ah no. Una fungola. Sembrava una merda. Il pesce nero. Aspettate. Il pesce nero e bianco. Pesce nero e bianco. un po'. Un po'. Colpa di pesce. medicina aspirina medicina se vuoi ti creo miracolo il sogno di qualsiasi giocatore dare qualcosa per una donna il mortale wiii di ca bazzucca oddio l'orfano è piuttosto scossa, bisogna di qualcosa per calmarci ok ok vediamo con una patata clown ha funzionato si hanno dato un uccello pasta ok la piazza la comitica spese con un'esplosione un'attività del quadro per creare ok 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 questo tutto quello che ci vuole raggiunta con tutti se si questa cosa c'è c'è il delfino spara 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 il clou pure quelli volanti ci si mettono chi è sto qua? aspettate assistente Gary oddio l'ho ucciso ok bong bong saltate è ancora fiamma dei pericieri ui ciao Gary ah io voglio fuggire la pompa di due eeeh ah c'è ancora una il cane ciao ciao no aspetta usa ok ok acqua power trasforma la station wagon in auto acqua invece un boy 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 ok ok quindi 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 ok ok l'homato fondamentale su quest'altro mi ha detto ok verniciando l'auto vernice rosa dipingi di rosa perchè è così fashion fatto non aspetta vorrei farlo perfetto ma è vernice rosa vabbè l'auto deve essere udibile dai il dj ma se io scrivo se scrivo banana rumoroso no ciao pompiere dai uno strumento autobompa pompieri perdono ha funzionato no scala strumento direi no la banana qui è la scala che è il modo per ha funzionato con la scala logicamente il traffico è terribile l'auto met volante volante adesso l'auto l'auto via ed è morto ha funzionato non è bloccato ok vai dai ciao oh la barbilla che succede qua troppo bella voce ok quindi ragazzi vedo quanto registrato al massimo chiude la parte